Intro Bentornati fratelli di tuberanza, siamo di nuovo su Xenoverse 2 in compagnia del nostro tuber secondo Signori, siete pronti per un'altra avventura con il vecchio Caio? No, nel senso una nuova mission... Scusate, voi che cosa avete capito? Prima di iniziare però devo dare gli attributi, un attimo eh, un attimo perché non l'ho fatto fino ad ora ma voglio farlo insieme a voi Allora, abbiamo 15 punti, attacchi base, ok, li vado a pompare fino a 10 La salute massima la vado a pompare fino a 10 Il vigore io lo pomperei ancora di più perché abbiamo bisogno di sostituzioni o quant'altro L'aura massima dare un punto non ha senso Quindi per ora va bene così Considerate ragazzi che il clan di Freezer va fatto in questo modo, va settato così Più attacchi di base e 0 supercolpi e supercolpi dell'aura Perché obiettivamente lui vi picchia sangue da vicino E non è tanto forte con le mosse supreme Ok? Bene Confermiamo E adesso spacco veramente i culi E dicevamo? Ok sì, con il vecchio Caio Ciao Caio Non si danno mai per vinti eh Ah, ok Andiamo con la pattuglia Mi piace, ora andiamo alla camera del tempo Andiamo Era 762, sempre una Mac Scusa? Vegeta perché sta con... Ah E infatti non mi riportava sta cosa Cioè Vegeta quando mai è andato d'accordo con... Con Gis Che cosa sta architettando Vegeta questa volta Ah ma allora era veramente Vegeta Ah no Ah il suo perso gli ha rubato il corpo Ok Che tecnica incredibile Ma non era Goku che aveva scambiato il corpo con quello di Giniu? Eh sì Di Towa e Mira Lasciali a me quei due Tu pensi di Cristina e della storia Ok Trunks Andiamo Andiamo a fare qualche culo 762 Come? Bata Bata G Guldo Geniu Geniu Giniu 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 Gatsenpai Mamma mia ragazzi Quanti giochi di Dragon Ball ho fatto nella mia vita Cioè in 25 anni ho giocato più giochi di Dragon Ball Che qualsiasi altra cosa Quindi le frasi giapponesi più o meno me le ricordo tutte Tutti insieme La squadra Giniu Sconfiggi tutti i nemici Problema non esiste Questo guarda sto spilungone regà Questo lo massacriamo E voglio anche il grado Z Ve lo dico subito Che poi io compaio lì Alle loro spalle Nessuno si chiede se sia buono Cattivo Oppure se voglio Boh non lo so Se voglio distruggere il pianeta Bam Ragazzi state appena State per assistere Alla Alla combo Interminabile Però gli ho messo fine a questa tecnica Perché Perché Volevo fare altro Ok scusa un attimo Queste qua mi servono eh Grazie Tieni Recom Questa te la voglio regalà È una sfera di compleanno Bella eh Ti è piaciuta? Bam Boom Boom Ah che bella combo Che ti ho fatto compare Raga Sfondiamolo con una tecnica suprema eh Non facciamo cavolate Aspetta Devo caricare la quarta tacca Altrimenti Non riesco a fare il raggio Bene Oh su Guldo Dov'è Guldo raga? Ah eccolo giù Ammazza Oh questo Questo ha picchiato a sangue e crili E l'ha fatta sempre franca eh Eh ma è finita la cuccagna mio caro Guldo Raga Devo avere assolutamente un'altra Un'altra tacca di aura Mi serve Assolutamente Eh no raga Chi ha picchiato Guldo? Non picchiatelo mentre gli sto fa la sfera evanescente Maledetti Quando siamo troppi contro lo stesso avversario ragazzi miei È un macello riuscire a fare combo e cose varie eh Tie Guldo Schioppati un'altra di questa va Boom Eh boh raga Va bene così Tie Pigliatene un'altra E saluto Massore Da die Ciao Ciao Ce l'hai fatta Eh vabbè Ho fatto delle buone combo Gli ho uccisi entrambi con una mossa suprema Ma come B? No no è impossibile raga No è impossibile proprio Goku Progetti Sconfiggi un nemico Povero Recom Ah no Mazzavante brutto Raga dobbiamo Dobbiamo sbloccare assolutamente l'uragano blu di Barter Eccolo qui Barter va Ho bisogno del suo uragano blu Oh scusa Giz Ho beccato te Eh eh Il coso Il puntatore è casuale Bam Eh non ti sostituire Che senso ha sostituirsi Se tanto devi morire male Boom E mo schioppati questa Tie Boom Degna Di un clan di Freezer Ragazzi Giz Ragazzi non perde più vita Forse mi devo fiondare su Barter Devo uccidere prima lui Bam 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 Boom Ma no raga Ho imparato ho imparato Alla fine Alla fine Se posso impararlo ancora meglio Levatevi tutti Perché padroneggio Xenoverse è peggio Di quello che utilizzo Eh vabbè raga niente Stava di una cazzata Nessuno perde più vita ragazzi Dobbiamo aspettare E poi mi dai gradi bassi Capito Cioè io vado oltre il tempo Della missione E mi dai gradi bassi Vabbè Tie Boom Le sfere del drago Oh raga Vegeta Non toccate Vegeta Ah ok adesso Adesso perdono di nuovo vita No ragazzi Vegeta Vegeta se la sta vedendo malissimo Aiutate Vegeta Goku aiuta Vegeta Vegeta se n'è andato Eh vabbè Qua ci saranno sicuramente Le conclusioni segrete Supreme Devo capire quali sono E poi ovviamente Le farò Tie Tieni Barter Scoppiate Nel'altra Niente Ecco la combo Ragazzi L'avevo fatta Mi è uscita sto giro Che cosa è successo? Stavo finendo Barter però Considerami un alleato Che velocità tra l'altro Bravi E mo? Non credo che cambi Che cambi qualcosa mio caro amico Sembra che mo pigli le zambate Anzi ti dirò Cerchiamo di non far morire Goku Eh Arriva Binario 2 Eh no Non toccare Goku Non toccare Goku E' morto Goku raga Sarà il mio dovere Rianimarlo Non posso rianimare Goku? Ah ok Quindi devo vedermela Da solo contro due Va bene Accetto Ok Uno è andato L'ho sgrizzato un pochettino Lontano Tu invece ti subisci La mega combo Power ultra Power hyper mega E Avrei voluto fare Una super mossa Tipo zero assoluto Ma Non ce l'ho fatta Barter Tieni va Però mi stai troppo vicino Mi sa che non ti becco Maledizione Perché mi devi stare vicino Vattene Ale Non è Queen Negone Deve essere Cosa Conclusione Ce l'hai fatta Ok ma Mamma mia ragazzi Il grado B Io non ho veramente parole Vabbè Lasciamo stare Ma No aspetta Com'è possibile Il mio corpo L'errore di Trunks Io pensavo stesse fingendo Trunks Invece no Aspetta un attimo E mi carico Tieni Jit Per te c'è questa Una bella Sfera evanescente Anzi aspetta C'è anche questo Ora che ci penso Mi carico di brutto Mazza ragazzi Spammo Mosseo Incredibile E lui è Trunks Che bello Vedere Genio Al mio fianco Vai Goku Mamma mia Che combinazione Di calci Zambate Distruggi Tutto Ho preso Di nuovo Genio Quando alla fine Raga Vado a uccidere Prima Genio Che Jit Nonostante A lui Che Miro Dai Ok stavolta L'ho beccato Jit ha perso Come può essere Anche tu hai perso Mio caro Bravo Trunks No No Ragazzi voglio impedire che Goku muoia Sono sincero Tutte e due contro di me eh Bene accetto volentieri questa cosa No 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 pepe pepe Aspetta Tarles non toccare Goku Tieni Goku resisti un attimo Non morire Goku Goku non morire Vai Ok Vai 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 che ne spammo Un'altra aspetta Goku Resisti Ok Tarles è morto No non è morto Che cazzo è morto Ah è morto Genio Ok Boom Grandi Grandi così Ho tutti sti changer ragazzi Gli staccavi più una sega Ecco qua Ecco qua Adesso è Jiraiya Bene così Abbiamo fatto proprio un grande scontro ragazzi Veramente un gran scontro Mo mi devi dare la Z No non capisco ragazzi Cioè ne ho uccisi due con le super Eppure non mi da la Z Boh Deve esserci qualche problema Secondo me E' certo che Tarles e Slug Collaborano con Toa e Mira L'abbiamo già sconfitta una volta Ma l'abilità scientifica di Toa è spaventosa E non è Un comune combattente E' stato rianimato con una grande montagna di energie Ed è più forte che mai Va bene Non sbaglierò Trovando una trappola che mi ha teso Toa Mi vergogno da morire Eh infatti E fai bene Per poco la storia non è rimasta compromessa per sempre La mente di Toa e la forza di Mira non vanno sottovalutate Devi fare più attenzione Noi due inseguiremo Mira Tu rimani qui e tieni d'occhio la storia Un guardiano della storia eh Scommetto che Tarles tornerà a farsi vivo Eh già Eccoci qua Allora Vediamo un po' Kaio ha già una nuova missione E non c'è nessun evento missione Peccato Allora Amici miei Un altro episodio Con un'altra saga Sono terminati Non mi rimane che darvi l'appuntamento Tra duemila Pollicioni all'insù Sempre E solo qui Su Tuberanza Ciao Ciao!